Ti proponiamo oggi un trilocale recentemente ristrutturato in centro a Moena. L'appartamento è situato al terzo piano di un condominio di 14 unità e dispone di un ampio box auto doppio ed una cantina. Dall'ingresso si accede alla zona giorno molto luminosa e ben disposta. Qua si trova l'angolo cottura completo di lavastoviglie e forno. Il soggiorno gode di doppia esposizione a sud-ovest. Il soggiorno gode. Il soggiorno gode. È presente un balcone dalla quale si può godere di una bella vista panoramica. Il soggiorno gode. Il soggiorno gode. Il soggiorno gode. Il soggiorno gode. Attraverso il disbrigo si accede alla zona notte dove è presente la camera matrimoniale con porta finestra sul balcone. successivamente si trova la camera con letto a castello e letto singolo. Il soggiorno gode. Il soggiorno gode. Il soggiorno gode. Il soggiorno gode. Infine c'è il bagno con spaziosa doccia ed attacco per la lavatrice. Se stai cercando un appartamento comodo a tutti i servizi, questo è quello che fa per te. Se desideri maggiori informazioni riguardo questo appartamento, inviaci una mail o chiamaci ai contatti in descrizione. Per visionare tutte le nostre proposte, visita il nostro sito www.immobiliarevadagnini.it www.immobiliarevadagnini.it